Per la nostra nuova serie Scienza, Fantascienza e Incoscienza, vi presentiamo ora un esperimento scientifico mai tentato prima. Ora vi mostrerò questo dispositivo, creato appositamente dai nostri laboratori scientifici tecnologici all'avanguardia, formato da un disco di silicone appositamente trattato con resine epossidiche. Lo scopo di questo dispositivo è quello di sorreggere, o meglio supportare, per dirla con questo moderno neologismo, questa potentissima telecamera che ora andremo a installare. Osservate. La telecamera si inserisce con estrema semplicità su questo... su questo pratico supporto, come dicevo prima, realizzato dai nostri laboratori di ricerca, molto comodo da indossare, molto elegante direi anche, utile per andare a filmare in giro in estrema libertà. Ora vi faccio vedere questa splendida visita in soggettiva alla mia casa. Stiamo camminando con le mani totalmente libere, mentre la nostra telecamera riprende l'ambiente circostante. Siamo liberi di filmare tutto come se fossimo con una telecamera incorporata. Vedete qui questo splendido panorama che si gode dalla mia finestra. Ora rientriamo. Guardate questo magnifico effetto di carrello, di dolly, che questa nostra nuova telecamera incorporata consente di ottenere. Ed eccoci di nuovo nel nostro gabinetto scientifico. In questo gabinetto scientifico si conclude il nostro esperimento. Questa potente e straordinaria invenzione voi la potete indossare ovunque, la potete usare per fare sport, per andare in bicicletta, per fare rafting, ma anche per girare comodamente per le vie della città, sicuri che nessuno vi potrà mai riconoscere. E con questo un caro saluto dal vostro divulgatore scientifico preferito.